che propose di chiamare il gruppo proprio la torre dell'orologio. Dopo 30 anni si alza di nuovo il sipario per una compagnia teatrale il cui destino resta legato in qualche modo al terremoto del 1980. Un evento che ridusse in macerie la città e che mandò in frantumi anche tanti sogni e speranze, soprattutto dei giovani. Il ritorno sulla scena per il gruppo che una volta aveva il nome di dilettante e successivamente il crogiolo, nonostante tutto, nonostante gli anni passati dall'ultima rappresentazione, appare come un segnale di ripartenza. Anche per questo la compagnia, presso il nome di un simbolo del capoluogo, la torre con l'orologio e anche i luoghi dove si tengono le prove, gli spettacoli parlano di rinascita. Il regista Rino Villani, infatti grazie alla collaborazione di un parroco particolarmente tenace e impegnato nel sociale, come Don Emilio Carbone, sta preparando l'atteso esordio nei locali della chiesa di Costantinopoli. Il repertorio di commedie e rappresentazioni troverà poi spazio nel salone della chiesa della Madonna della Salette. Non manca l'entusiasmo per il gruppo di attori coordinato da Villani che saranno soprattutto protagonisti di un messaggio sociale e di inclusione. La condivisione di un sogno che ritorna e il regista apre le porte ad amatori e appassionati interessati a cimentarsi in questa stimolante esperienza. L'orologio della torre ha fissato le lancette sul terzo tempo della compagnia teatrale a Velenese. Abbiamo intenzione di promuovere una sorta di teatro sociale, teatro che abbia come punti cardini l'inclusione, la solidarietà, l'aggregazione. Insomma, noi puntiamo a divertirci insieme e anche per questo abbiamo scelto un repertorio di lavori squisitamente comici, quindi per stare così insieme allegramente. L'esordio? L'esordio dovrebbe avvenire agli inizi del nuovo anno, quindi insomma fra un mesetto o poco più. Speriamo di realizzare questo nostro sogno. Approfitto per ringraziare tutti i colleghi che mi hanno seguito anche in quest'altra avventura.